Dal 30 giugno riparte Conterranea, festival che nobilita l'olio DOP Cartoceto e le eccellenze no gastronomiche del territorio nelle location suggestive dei comuni che compongono l'areale DOP Coglia al Metauro, Monbaroccio e Cartoceto. Si tratta di un nuovo dinner tour che vuole fare scoprire le suggestioni di questi territori unendo ristorazione, luoghi di interesse storico e pasaggistico, musica di qualità e riflessione colta. Il viaggio, condotto dalla narrazione teatrale di Filippo Paolasini inizia questo venerdì alle 20.30 in Piazza Bravante di Montemaggiore al Metauro. La proposta della cena sarà curata dagli chef Arsenio Teloni e Matteo Baldelli del ristorante da Matteo con la collaborazione del divulgatore enogastronomico Gianluigi Garattoni. Una serata accompagnata dallo spettacolo musicale di Frida Neri, Viaggio sotto i cieli del mondo e da un talk show culturale tenuto da Massimo Fucci, divulgatore scientifico del Museo del Balì. Il 21 luglio invece la seconda tappa di Conterranea sarà a Monbaroccio in un luogo di spiritualità e scienza come Palazzo Guidobaldo del Monte, un appuntamento che si legherà alla figura del Beato Sante in occasione dell'ottocentesimo anniversario del santuario monbaroccese. Viaggio di Conterranea che si chiuderà il 29 luglio a Cartoceto nella Piazza del Teatro del Trionfo, un tempo frantoio e deposito di olive e oggi luogo d'arte e spettacolo nonché prossimo polo di innovazione artistica d'avanguardia.